Sì, perché hai combattuto benederti. Oh, grazie. Ah, io voglio buttarlo giù. Io, io devo dire un pugno, no? Capito? Come si lancia? Ma sono briaghi sti cosi? Ma te? Ma te? Ma hai battuto. Non so che cosa ho fatto. Ma neanch'io lo so. E a round non ha eliminazione, dice il gostazzo. Eh, sì, ma ci spiegate i tasti, regà, li sapete voi? Allora, io ho capito che con A... Con A si salta. Sono saltato fuori. Sì, eh, io vorrei... Ma dove stai? Eh, mi sono buttato. Sei morto. No, no! Eh, praticamente sì. Dovete spiegarci i tasti, regà. Allora, con A si salta. Oh, comunque questo so io quando so ubriaco. Oh, uguale. Stessa. Praticamente. Ok. Qua ci sono... Mi ricordo che passano i treni. A me piacciono i treni. Allora, aspetta. Vieni qua. Ah, ho capito. E' piavo. Puccia. No! Levate! No! Aspetta! No, salta! Salta! Levate! Non sale! Aspetta, aspetta! Aspetta! No! No, 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 no! E ti è due sotto al treno. Non ce l'ho fatta, regà. E' morto. No, è ancora lì. No, come fa? Ma perché? Ma come lo faccio a lanciare? Come faccio a risalire, regà? Eh, deve aggrapparti. Praticamente con i tasti dei pugni ti aggrappi, no? E' capito. Oh! Eh, ho capito, ma non ha senso così. Oh, la... Questa l'ho vinta io. Mamma mia. Che c'è la connessione che è instabile. In teoria sì, fai la lobby. Però ci sono di nuovo. No, nel senso persone online con un multiplayer. Dove cazzo sta? Ma dai, ma questo qua mi hanno buttato giù. Ma vaffanculo. Come cazzo si... Da te se impara a me na' porco. Premi B, gli dai una testata. Con B, gli dai la testata. Te parto di capoccia. Premi tutte e due le levette sopra, tieni le premute e che lo afferri. Però non... No! Cazzo, che culo. Vedi che culo. È il cazzo risolvato. Ha preso il cartello in faccia quello. Ma quel gallo lì, che cosa che ha intenzione... Quale intenzione ha? Tu dovresti andare su e farlo giù. No, io aspetto. Dai, super. Ma guarda che botte che pia. Ah, non mi sei sdraiato. Tanto meno. Ah sì, finimo qua la partita, te lo dico. Io non so se sali su. Come se sale? Devi saltare e afferrare. Afferrare, devi afferrare con i due pugni praticamente. Hai capito? Eh, vedi che ti sei agganciato. Però devi farlo fuori. Ciao, buonanotte. Vedi che sta arrivando. Vedi, vedi, arriva lui. E mo... Ah, mo devo attestare. Aspetta, vieni qua. Tu stai? Tu stai? È mezzo di due camion. Ma siete su DS? Sì, siamo su DS. C'è una chat vocale che ho creato... È cascato? Appena prima di partire. No. M'ho cato. Guarda, guarda, guarda come prende il cartello. Ciao. Ciao, è stato un piacere. Ho preso. Perché abbiamo provato questa chat vocale privata. Diciamo che l'ho preso sul... Come si dice? Sulla stanchezza. Sì. No. Gli hai fatto rompere i coglioni. Anche, anche, anche. Guarda questo blu. Guarda questo blu come li aspetta. Eh sì, perché... Vedi, quello lì è capace e è riuscito ad aggrapparsi e risalire. Io prima ci ho provato, ma non ce l'ho fatta. E in più il pavimento, guarda, si sta sbrettonando. Ok. Dai, tiralo giù, tiralo giù. Dai, muovi, ti pie, però, perché... Madonna, si fa lunga. Sì, no, veramente una noia. Ecco, la stordita, la stordita. Non ci ha fatto. Oh. No. Ah, guarda, risultava già. Tira giù, tipo. Guarda che gli fa cucù, gli fa cucù, gli fa... Niente. Ah, no, non ci credo, guarda che perde lui. No. Che cazzo. Che cretini. Sei grappato a lui. Che cretini. Oh, però basta. Ecco, morti tutti i due, va. Non è che lo piglia capate. No, no, questi due si guadagneranno... Guarda dove sono andati. Oh, ciao. Goffi. Grande, Goffi. Goffi, uno di noi. Hai risultato in acqua, hai risultato assurdo. Amma mia, Goffi, oh. Ring, ecco. Ciao. Come ho. Per poco. No.